E con grandissima gioia vi do il benvenuto nel nostro salotto del benessere e che ormai è diventato un luogo familiare anche per tutti voi che ci seguite da anni con affetto da casa. Staremo insieme ogni sabato mattina pronti a prenderci cura della nostra salute grazie anche ai preziosi consigli di illustri medici ed esperti del settore. Insieme a me Margherita De Bach che vedo già in postazione pronta ad accogliere la nostra prima ospite, la professoressa Laura Di Rienzo, docente di nutrizione clinica con la quale parleremo di consumo di vino. Il vino fa bene o no? Tra l'altro un argomento di grande dibattito in queste settimane. Ospiteremo poi in studio il dottor Donato Vassalli, medico della Nazionale Italiana di Rugby e reumatologo al quale chiederemo tra le altre cose che tipo di colazione ci consiglia per iniziare al meglio la giornata soprattutto anche per chi fa attività sportiva. E a proposito di attività sportiva sapete che in questo programma la pigrizza è bandita e infatti è pronto per voi un breve circuito aerobico con il nostro personal trainer Flavio Balabrega. Appuntamento assolutamente da non perdere è la rubrica con la nostra professoressa Pucci Romano che sarà con noi ogni sabato mattina per aiutarci a prenderci cura della nostra pelle e della nostra bellezza. Lo so mi sono dilungata un po' ma ci tenevo ad iniziare al meglio questa prima puntata il tempo di riepilogare tutti gli argomenti in grafica ed entriamo subito nel vivo del nostro talk. Buongiorno esordiamo col vino. Un bel brindisi per parlare di un argomento molto combattuto su cui si è discusso molto vino sì, vino no, rosso, bianco, rosè, quando berlo. E ne parliamo con Laura Di Rienzo, benvenuta, che è ricercatrice nel campo della nutrizione all'Università di Torbergata e si occupa in particolare di genetica della nutrizione che significa studia l'influenza delle sostanze contenute nei cibi nel nostro genoma. E così ho detto bene? Benissimo, grazie. Sì, è un ruolo questo di studiare proprio la relazione che c'è tra il cibo e quello che siamo. E quello che siamo determina a sua volta un fenotipo, quindi come appariamo, quindi cosa siamo dentro e come appariamo fuori. Cioè come poi siamo individualmente. Come siamo fuori. E allora sul vino che cosa ha visto, che cosa abbiamo visto? Innanzitutto quali sono le due sostanze che influiscono sui geni contenute nel vino? Abbiamo soprattutto i polifenoli, il resveratrolo, gli stilbeni, la vinaferina. Sono queste molecole meravigliose che hanno delle proprietà antiossidanti. Proprietà che influenzano il nostro genoma come i nostri geni e quali, quanti geni? Allora, io ne ho studiati almeno 250, ma è una cosa complicata. E quindi possiamo dire, li possiamo raggruppare in due grandi categorie. Quelli geni che sono deputati ai processi infiammatori, che un po' ci servono perché fanno parte dei nostri processi metabolici, ma quando l'infiammazione aumenta determina il rischio della maggior parte delle malattie che noi definiamo cronico-degenerative non trasmissibili. Cioè quelle che non hanno un patogeno, ma che nello stesso tempo ci fanno ammalare. Obesità, malattia cardiovascolare, insulino-resistenza, diabete, fine tumori. E poi dall'altra parte abbiamo tutti quei geni che vengono attivati come difesa. Quindi i cosiddetti geni del riparo dallo stress ossidativo. Quindi in una parola il vino fa bene o fa male interferendo con questi geni? Il vino in questo contesto fa bene perché è una matrice ricca di polifenoli. Perché ne consumiamo in quantità moderate, ne parleremo dopo. Vino rosso, vino bianco, altri alcolici, li mettiamo tutti sullo stesso piano? Assolutamente no. Assolutamente no. Quando parliamo di bevande alcoliche dobbiamo per forza distinguere. Allora, tutti i benefici che sono finora stati studiati quando poi il vino viene consumato con moderazione sono legati al vino rosso perché è l'unica bevanda da una parte alcolica ma anche che è più ricca di tutte queste sostanze ad attività antinfiammatoria e antiossidante. Il vino bianco per come viene vinificato, quindi non avendo una vinificazione con le bucce, quella cosiddetta vinificazione in rosso, purtroppo contiene gli stessi polifenoli ma ne contiene in dosi decisamente ridotte tali da non attivare i sistemi genetici che abbiamo detto. Poi c'è il rosè, è un neve di mezzo, oggi si parla anche dell'orange, l'arancio e lì le bucce sono tenute in un tempo sufficiente per aumentarne il colore ma non per dare tutta la ricchezza. E qual è il quantitativo di vino concesso ad una persona in salute? Il quantitativo moderato dipende un po' dalla popolazione di riferimento, quindi in Europa si distingue in generale la moderazione per le donne e la moderazione per gli uomini. Allora per le donne non più di un bicchiere. I maschi hanno una capacità genetica propria di metabolizzare meglio l'alcol e quindi è consentito un dosaggio più alto, ovvero un bicchiere e mezzo, quasi due, poi dipende anche dalla corporatura e dipende anche dalla capacità che abbiamo acquisito di stimolare, c'è un enzima che si chiama l'alcol d'edrogenasi, cioè la capacità di detossificarci dall'alcol. Allora la bevuta graduale a piccole dosi aumenta la capacità di questo enzima di attivarsi. Quindi se siamo a stemi e beviamo un bicchiere di vino rimaniamo stecchiti. Se invece tutti iniziamo che siamo a stemi, allora c'è una piccola dose che attiva di più questo enzima. Purtroppo le donne, le cosiddette femmine in biologia, hanno la difficoltà, hanno maggiore lentezza in questa attivazione e per questo dobbiamo bere un po' meno. E quindi è molto importante anche quando lo consumiamo, in che momento della giornata, ad esempio a tavola, è preferibile a piccoli sorsi e a tavola riempendo lo stomaco, vero? Sì, assolutamente. Allora diciamo che non bisognerebbe mai bere digiuni e quindi a tavola è la condizione migliore. E a tavola perché? Perché a tavola abbiamo un po' più di tempo per sorseggiare questa piccola dose di vino che ci è concessa. Perché intanto l'assorbimento dell'etanolo è meno istantaneo, diamo più tempo a tutti quei sistemi epatici che sono poi deputati alla detossificazione di attivarsi. E nello stesso tempo l'altra osservazione che è stata fatta è che la sinergia tra quello che beviamo e quello che mangiamo aumenta la capacità di difesa delle nostre cellule immunitarie deputate proprio al sistema metabolico. Ma come la mettiamo con gli aperitivi che per molti è diventato insomma un appuntamento irrinunciabile? L'aperitivo se accompagniamo qualcosa di un po' più sostanzioso rispetto allo snack che può essere la patatina fritta, la nocciolina, ma già per esempio abbinando, lo dico questo perché abbiamo fatto delle prove anche sull'aperitivo, mangiando alimenti che contengono fibre, che contengono antiossidanti, si esalta la proprietà degli antiossidanti presenti nel cibo, non quelli presenti nel vino. Quindi c'è una sinergia. E allora appunto se vogliamo fare l'aperitivo cominciamo a prenderci più alimenti che contengono fibre e che quindi iniziano a darci un senso di sazietà. Allora tutto sommato il vino lo possiamo promuovere, no? In questa disamina che abbiamo fatto sia pur moderatamente consumato. Però l'Irlanda non la pensa così, perché in Irlanda appongono sull'etichetta delle avvertenze sulla pericolosità, sul rischio per la salute. Che ne pensi Laura? Io direi che fermo restando che il pericolo, cioè un rischio dipende appunto da come bevi, quanto bevi e soprattutto come sei educato al bere. Quindi la posizione di questi segnali così sul pericolo in realtà da una parte spaventa, dall'altra non educa. Quindi ci vogliono delle campagne alla base di queste etichettature, campagne di educazione. L'abbiamo fatto per il cibo, questa volta andrebbe fatto anche per il vino. È vero che in alcuni paesi e soprattutto in alcune fasce di età, parliamo dei giovani, che non dovrebbero bere alcuna bevanda alcolica, né vino né superalcolici. Non dovrebbero bere perché loro non metabolizzano proprio il vino. Perché, ho detto, c'è questa induzione ma che aumenta quando poi tutto l'organismo è diventato adulto. Quindi la bevuta, il vino va bene per gli adulti e va bene per gli adulti che sono consapevoli di quello che stanno facendo. Quindi, vedi, mettere semplicemente un bollino... Non basta, serve educazione. C'è anche bisogno in questo contesto perché per noi il vino è parte integrante alla base della dieta mediterranea. Però, così come abbiamo assunto una cattiva abitudine nel bere, così nello stesso tempo ci siamo persi della nostra mediterranetà. Quindi bisogna avere una riscoperta, un ritrovarsi a bere e mangiare mediterraneo. Quindi capire che cosa vuol dire. Ecco, però è un fenomeno che viene contrastato dal mercato, dalle novità che ci propongono in continuazione. Adesso l'ultima sono i cibi sintetici, quelli che derivano, spiegacelo bene, dalle cellule come vengono prodotti in modo del tutto nuovo e futuristico. Sì, il cibi del futuro. Allora, anche lì, se parliamo della carne sintetica... Parliamo tanto di dieta mediterranea, stile mediterraneo, però ci sono questi continui attacchi. Allora, io mi trovo in una posizione di mezzo, nel senso che da una parte mi piace tutto quello che è l'innovazione e la tecnologia, dall'altra invece, come un piombo, sto ferma sulle mie convinzioni, che derivano da una sperimentazione scientifica. Allora, ancora non ho avuto modo di sperimentarlo, perché mi piace sempre parlare di quello che conosco al meglio, o perché qualcun altro lo ha sperimentato, o perché l'ho sperimentato in equip nella mia università. Per esempio la carne, allora si parla di carne sintetica, che cos'è? In realtà si prendono delle cellule, diciamo delle cellule staminali, delle cellule non differenziate e in laboratorio si fanno differenziare in fibra muscolare. Quindi da una parte, se parliamo di sostenibilità, intesa come sostenibilità per l'ambiente, non c'è l'animale che fornisce carne viva, ma c'è un laboratorio, un bioreattore, dove questa carne viene prodotta. E cosa fa questa carne? Si trasforma in una bistecca con pochi grassi e molto muscolo. Quindi dal punto di vista di palatabilità, per quello che ho visto non l'ho assaggiata, potrebbe essere buona. All'occhio sembra identica ad una carne sfilacciata. Cosa ci farà quando noi la mangiamo? Sicuramente se guardiamo i macronutrienti, ovvero quello per cui noi mangiamo la carne, le proteine grassi, le proteine grassi, e poi abbiamo una parte, ma nella carne è veramente ridotta i carboidrati, questi sono la classe dei macronutrienti, sicuramente è quello, è identica. Però poi bisogna vedere cosa si porta dietro quella carne sintetica. Insomma c'è ancora tanto da scoprire, ne riparleremo quando ne sapremo di più. Però un'altra domandina a proposito di novel food, di nuovi cibi, questa farina di grilli, io avevo dei pregiudizi, invece andando a vedere, a studiare, ho scoperto, mi sono convinta, che possono avere la loro utilità. Tu che ne pensi? Ne penso bene anch'io, nel senso che non siamo pronti. Noi che viviamo in una parte del mondo, non siamo pronti a consumare gli insetti. E quindi è ricca di proteine, può avere il suo significato per alcune persone, immaginiamo gli sportivi, immaginiamo gli anziani, che fanno fatica a masticare una bistecca. Però anche qui dobbiamo essere sicuri che sia stato tracciato tutto il percorso che ha portato alla formazione di queste farine e questa pasta, che ci siano poi esposti in etichetta, in questo caso sì, la presenza di allergeni potrebbe essere allergizzante, e se tutto è sotto controllo, così come lo sono le nostre produzioni… Come si chiama? Ketus domesticus grill, il piccolo grillo che tutti noi sentiamo in campagna, che adesso finisce nella farina, però sempre molto controllato. Alessia, tu lo mangeresti un alimento che contiene grillo? Io sì. Allora, sono una buona forchetta, quindi mangio un po' di tutto, quindi sarei incuriosita. Il sapore non è… Se me lo dicono dopo averlo mangiato, magari sì. Però insomma, sono incuriosita anche da questo. Bene, professoressa, noi la ringraziamo, grazie per essere stata con noi, per i suoi preziosi consigli. Ne faremo tesoro, grazie. Grazie a voi. Io ve l'avevo annunciato in apertura di puntata, è il momento di dare spazio alla nostra rubrica dedicata alla pelle. Lei è un'amica, un'amica del nostro salotto del benessere, è appena uscito il suo ultimo libro, Questioni di pelle, e sarà con noi ogni sabato mattina per darci i suoi consigli. Lascio la parola alla professoressa Fucci Romano, che oggi ci parlerà di ecodermocompatibilità. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui e di accompagnarvi in un viaggio virtuale per conoscere meglio l'organo più grande del nostro corpo, la pelle. Sulla nostra pelle noi tutti i giorni mettiamo una marea di sostanze, anche per una semplice routine cosmetica. Ed ecco perché oggi vi parlo di ecodermocompatibilità. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo bisogno di prodotti che siano rispettosi dell'ambiente, sempre più questa tematica è sentita e percepita, ma c'è bisogno anche di un'altra caratteristica importante, che i prodotti che usiamo siano dermocompatibili, ovvero che abbiano a che fare con la nostra pelle, che le facciano veramente bene se decido di mettere un idratante che sia veramente tale, se decido di mettere un sebo regolatore che lo faccia davvero, ovvero che mantenga la promessa. E questo concetto secondo me è diventato di grande respiro, perché abbiamo bisogno di avere cose pulite, abbiamo bisogno di avere una composizione che si chiama INCI, cioè una nomenclatura internazionale che declina la composizione di un prodotto finito. È importante avere anche un minimo di conoscenza, di sapere che cosa stiamo utilizzando. Pensate che ci sono almeno 500 sostanze con le quali entriamo in contatto tutti i giorni, senza fare nulla di che, lavarci, idratarci, schiuma da barba, non escludiamo gli uomini. Quindi adesso io passo la parola a Giulia, la nostra cosmetologa, che nel dettaglio vi farà vedere bene come sono strutturati i cosmetici. Quando scegliamo un prodotto cosmetico per il trattamento quotidiano, la prima cosa da fare è vedere l'etichetta, è imparare a leggere l'INCI, ovvero la lista degli ingredienti contenuta all'interno di un prodotto cosmetico, riportato in etichetta su ogni confezione. Scegliete prodotti che privilegiano ingredienti come antiossidanti, quindi vitamina A, vitamina C, vitamina E, escludendo invece ingredienti come il paraffinum liquidum, i siliconi, che potrebbero andare ad alterare il microbiota cutaneo. Orientatevi verso prodotti che sono formulati non solo nel rispetto della nostra cute, ma anche nel rispetto dell'ambiente. Privileggiate packaging riciclabili, compostabili o ricaricabili. Ricordatevi che la cura della pelle passa anche attraverso un corretto stile di vita. Bevete molta acqua durante tutta la giornata per mantenere la pelle idratata, elastica e luminosa. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie Giulia, grazie la professoressa Pucci Romano, grazie anche per aver sottolineato come la dermatologia sia sempre più ecologica. Noi vi lasciamo con un po' di pubblicità, ma io e Margherita torniamo subito con il nostro secondo ospite per parlarvi di sedentarietà e rischi per la salute. Bentornati a Belli Dentro, Belli Fuori. Margherita, tu che sei una super sportiva, ma lo segui il rugby? Sì, lo seguo, mi piace e l'ho scoperto grazie a Donato Vassalli, che è tante cose, reumatologo, medico dello sport, segue come medico la nazionale di rugby, che tra l'altro fra poche ore sarà in campo contro il Galles a Roma. Donato, però, dici di tu, quali sono i vantaggi, le qualità di questo bellissimo sport? Il rugby è indubbiamente uno sport emergente, poi colgo l'occasione, visto che hai citato l'incontro che ci aspetta tra qualche ora, anche per sottolineare che l'Italia sta compiendo grandi progressi. Che è una nazionale giovanissima. Molto giovane, quindi ci aspettano sicuramente momenti migliori. Noi abbiamo colmato chiaramente il gap con le grandi nazioni di tradizione eribistica, le bellissime prestazioni con Irlanda, Francia, Inghilterra, quindi parliamo veramente solo il nome. Del top, del top. Del top, del top. Ma perché una mamma, un nonno dovrebbe avviare verso il rugby, a rugby, un bambino? Certo, dunque, innanzitutto genitori e nonni dovrebbero avviare verso tutto lo sport, nipoti e figli. Però il rugby ha un valore aggiunto, un valore aggiunto che si muove in realtà su due strade. Quello dell'impulso motorio variegato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il rugby non è uno sport in cui si compie una gestualità unica. Ma sì, salta, si corre, si placca, si calcia. E poi c'è qualcosa che credo sia quasi peculiare. Quasi peculiare che in qualche spogliatoio mi è capitato nel mio girovagare, così come nella mia funzione anche, di trovare questo sport crea non solo atleti ma uomini, no? L'idea è quella di... Molto gruppo, vero? Molto gruppo, ma soprattutto di educare a cosa? Cioè un termine molto, come dire, forse inflazionato in questo momento. Educare a resilienza. Cioè quindi il bimbo che si abitua, il ragazzo che si abitua a considerare nella giusta misura piccoli infortuni. Non si esce dal campo per un po' di sangue dal naso. È un po' una metafora della vita, quindi credo che il valore aggiunto sia questo. Dottore, a proposito di bambini, leggevo un dato davvero preoccupante. Tra i 38 paesi dell'Ocse, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico, l'Italia si posiziona al primo posto per la sedentarietà tra i bambini e al quarto per gli adulti. Allora, è preoccupante sì, però c'è di contro che siamo anche un paese che ama lo sport, perché abbiamo tanti campioni a livello agonistico, sosteniamo i nostri campioni, lo seguiamo, ma non lo pratichiamo. Cosa ne pensa di questa contraddizione? Purtroppo ha ragione. Ha ragione perché siamo tra gli infanti, tra gli adolescenti, siamo il popolo più obeso d'Europa, come diceva lei. Questo credo che ci imponga delle riflessioni, ma ci imponga anche delle scelte operative. Queste scelte operative si muovono, anche in questo caso, su due strade. Dalla parte la nutrizione, cioè cominciare a parlare nelle scuole di come ci si nutre, da come ci si idrata, da come si approccia all'alimentazione, dall'altra parte incrementare in tutti i modi possibili l'attività motoria in primis e lo sport poi successivamente. E allora facciamo una prova, perché sicuramente tra i nostri telespettatori ci sarà qualcuno che magari non fa sport da tanto tempo o magari non l'ha mai fatto in vita sua. Proviamo a invogliarli, a stimolarli. Quale sarebbe il momento migliore della giornata per combattere la pigrizia? Allora, automaticamente la domanda che lei mi ha fatto si rivolge a un pubblico che sportivo non è, chiaramente. Quindi il trucco potrebbe essere di evitare la mattina appena sveglio. Ah, di evitare la mattina. La mattina appena sveglio occorre una grande motivazione, che questo pubblico a cui lei si riferiva credo che non abbia. Era questo, quindi già mezza mattina, fine mattina avrebbe più senso, credo, e poi potrebbe essere nel primo pomeriggio. Anche la sera la eviterei, perché chi non ha grandissime motivazioni, arrivare dopo un'intera giornata di ufficio, di fabbrica o di altre mansioni, arrivare a fine serata e violentarlo, costringendolo a fare sport, diventa poco percorribile a mio avviso. Quindi, riassumendo e rispondendo brevemente alla sua domanda, direi mattinata, non primissima mattina, è pomeriggio. Allora, io invece ti parlo dell'altra metà del cielo, cioè quelli che hanno fatto troppo sport, 30, 40, anche 50 anni di sport, vorrebbero continuarlo, però sono un po' annoiati. Che consigli? Ma un consiglio che viene un po' dalla pratica, no? Il consiglio, probabilmente, potrebbe aver senso cambiare sport. Ma cambiare radicalmente come si fa? Anche radicalmente, correlata alla tua domanda, mi sorge un'altra riflessione. Nel senso che spesso è vero che siamo annoiati, ma molto spesso non riusciamo nemmeno a organizzare la nostra giornata. Quindi la noia trova un rinforzo negativo, che è la disorganizzazione, l'incapacità di gestire il nostro tempo. Perché dici siamo troppo impegnati e quindi lo sport non si interseca con le nostre attività? Assolutamente, occorrono motivazioni forti e poi c'è una parolina magica, la parolina magica che accompagna un po' tutta la pratica sportiva. Divertirsi. Divertirsi, esatto. E invece cosa mi dice delle app sportive, quelle che ormai si scaricano su tutti gli smartphone? Quelle che a un certo punto ti dicono hai un top per raggiungere il tuo obiettivo? Cioè funzionano, sono stimolanti? Io vorrei sordire con un aneddoto, se lei me lo consente, se Margherita me lo consente. Ero qualche settimana fa all'estero dove studia la mia figlia maggiore e quindi lei ovviamente entusiasta di avere il suo papà lì in città. Mi ha portato in giro per questa capitale europea del nord e quindi ho fatto tipo 26.000 passi. Io che ne faccio 800 di media, a parte gli scherzi, ma non supero i 2-3.000. E quindi mi è comparso l'alert sul telefono, ti hanno rubato lo smartphone. Ora a parte l'aneddoto, sicuramente l'app può avere senso perché è un autocontrollo, quindi è un feedback. Nel senso io scopro di trovarmi in una settimana in cui non sto camminando. E questo, e mi ricollego alla domanda di Margherita, potrebbe essere anche uno stimolo, volendo. Però io credo che sia necessario anche affiancare a questa tipologia di stimolo anche l'organizzazione di cui sopra, cioè mi faccio un piano strutturale, so che inizio a fare un certo tipo di lavoro 2-3 volte a settimana. L'app mi aiuta a verificare quanto io sia stato bravo. Quindi da sola l'app non credo che risolva i nostri problemi. Senti Donato, l'app a proposito della prima colazione, cioè tu che cosa consigli? Prima o dopo lo sport? Guarda, io sono un partigiano scatenato della prima colazione, nel senso che... Cioè innanzitutto farla, prima regola farla. Assolutamente, saltarla o ridurla a una tazzina di caffè al bar a volo io la chiamerei una follia nutrizionale. Oh, bravo. Una follia nutrizionale, perché la prima colazione ci apre alla giornata, ci dà quell'apporto energetico che è fondamentale sia che io svolga attività intellettuali sia che io svolga attività materiali, diciamo quindi lavori che prevedono la materialità. Quindi è fondamentale. Mi attiva il metabolismo oltre a darmi le energie. Mi permette di mantenere il mio peso forma, perché placa il senso della fame, no? Quindi è importantissimo. Previene addirittura le malattie cardiovascolari, aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, malattie importanti come il diabete. Quindi prima colazione assolutamente sì. Normalmente se hai tempo a disposizione dovresti fare la prima colazione un'ora o due prima dell'attività. Non sempre è possibile. Quindi i tuoi reggbisti, i tuoi giocatori hanno già consumato una prima colazione abbondante. I giocatori chiaramente è tutto un altro pianeta, nel senso se tu vedessi quello che loro hanno sui tavoli a colazione ovviamente avresti un sussulto. Ma a parte questo, per quanto riguarda invece le persone comuni, sicuramente un'ora o due prima di svolgere l'attività fisica. Se non è possibile perché l'attività non è inserita in un contesto ben organizzato della mia quotidianità, sicuramente posso fare un piccolo spuntino, fare l'attività e posporre successivamente la vera colazione. Questo dovrebbe essere un escamotage per far sì che, soprattutto che non mi passi la voglia, se no ho anche l'alibi della colazione. Certo. Senti, una prima colazione veloce al volo da fare, un consiglio, vediamo. Quella che a me piace, perché mi faccio nemmeno fatica. Mediterranea, non con la pancetta all'uomo. No, 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 assolutamente. Allora, io inizierei a proposito anche di Mediterraneo, inizierei con una bella spremuta d'arancia. Quindi prendere la spremuta d'arancia, uno l'apporto di vitamina C, due è noto che la vitamina C prepara all'assimilazione dei cibi successivi. quindi prepara lo stomaco a ricevere questi cibi, quindi spremuta d'arancia. Poi pane, fette biscottate, meglio se integrali. anche il latte, latte semmai è preferibile personalmente scremato o scremato, questo è importante. Cereali, questo può essere l'unica divagazione nella dieta mediterranea, che non è proprio mediterranea ma è un pochino più alpina, anche il muesli è importante. Il muesli, sì, però è meno nella cultura dell'italiano. Assolutamente, assolutamente, tornando alla cultura, la frutta, assolutamente la frutta. O bere, l'acqua, o bere prima o durante. L'idratazione è fondamentale, io direi che non è fondamentale, non è importante, è vitale. L'idratazione, e va, ecco, poi sull'idratazione durante, questo è una, ti ringrazio per la domanda, perché esistono tanti luoghi comuni sull'idratazione, uno di questo che un pochino campeggia in alcuni contesti e bere fuori dai pasti, questo è un errore grave, perché l'acqua favorisce in qualche modo l'assimilazione dei cibi, la digestione e quindi va assunta anche durante i pasti. Soprattutto un messaggio deve passare, non aspettare di avere sete, perché potrebbe essere tardi, nel senso che dobbiamo evitare di avere sete e quindi significa in qualche modo prevenire questo aspetto. Allora, un consiglio per voi e poi torniamo con il dottor Vassalli. Dottore, stavamo parlando di acqua, di idratazione, il residuo fisso, che cos'è? Ce lo spieghi in parole semplici. Il residuo fisso è quello che resta dell'acqua quando evapora, in altre parole, prendo un litro d'acqua, lo faccio evaporare a 180 gradi, quello che resta è il residuo fisso. La domanda a me piace molto, perché mi consente di sfatare quello che è un falso mito sul residuo fisso, nel senso che si legge un po' dappertutto, ma in molti contesti, si legge che le acque con residuo fisso alto sono dannose. Innanzitutto il residuo fisso, che abbiamo spiegato che cos'è, consente di dividere le acque in quattro grandi categorie. minimamente mineralizzate, poi dipende dal residuo fisso, non voglio tediarvi con numeri, le leggermente mineralizzate, mediamente mineralizzate e fortemente mineralizzate. Io non conierei, non credo di essere originale, però vorrei proporvi uno slogan che è l'acqua come integratore. Nel senso l'acqua tra le funzioni fondamentali che ha Margherita è quello di portare, di apportare meglio ancora, al nostro corpo elementi fondamentali, parlo di sali minerali soprattutto, mi viene in mente il calcio, un primis, mi viene in mente il sodio, un pochino meno, ma altrettanto importanti anche magnesio e potassio. Allora se io ho un'acqua non eccessivamente mineralizzata perché diventa poco palatabile, ma un'acqua mediamente mineralizzata, per i cultori dei numeri con un residuo fisso tra 500 e 1.500 per litro, chiaramente io posso non apportare questi materiali, cioè non rinuncio alla funzione dell'integratore. Altro luogo comune, altro mito da sfatare è che le acque con un residuo fisso rilevante aumentano la possibilità di generare calcoli, di dare problemi renari, questo non è affatto così. Primo, non esiste uno studio di questo tipo. Seconda cosa importante, qui esistono invece gli studi, si è vista addirittura che assumere del calcio in misura ottimale, quindi mi riferivo appunto alle acque mediamente mineralizzate, consente di ridurre la quantità di ossalato di calcio che si assorba a livello intestinale, che è veramente responsabile dei calcoli. Quindi non solo non posta la calcolosi, ma la previene in modo indiretto. Quindi Donato, per concludere i tuoi preziosi consigli, bere per uno sportivo è fondamentale, ma è anche bere guardando che cosa c'è fra i minerali presenti nell'acqua. Grazie dottore, perché ci ha chiarito tantissimi dubbi. Allora noi vogliamo iniziare questo sabato mattina in modo energico, siamo pronti con il nostro circuito aerobico, con il nostro personal trainer. Ciao Flavio, allora io oggi sono carica e sono pronta per un bel circuito aerobico, però prima ci spieghi qual è lo scopo di questo tipo di allenamento. Il training aerobico è fondamentale per un buon programma fitness, infatti non solo andremo a beneficiare l'apparato cardiorespiratorio e il benessere generale, ma ci sono anche altri benefici, per esempio la nostra concentrazione verrà migliorata dopo un elemento cardiologico. Ah perfetto, sono pronta, iniziamo col primo esercizio. Ok, allora il primo esercizio ci disporremo qua davanti al tappetino, con le gambe unite e le braccia distese lungo i fianchi e andremo ad eseguire un jumping jacks, che forse è uno degli esercizi più famosi nel mondo del fitness. Ok Flavio, secondo esercizio pop squat, ci metteremo magari non sul tappetino così evitiamo di sporcarlo dato che siamo sul prato, con le gambe a una distanza un po' più ampia delle spalle e cominciamo facendo uno squat e poi avviciniamo le gambe, esatto e ritorniamo bas squat, saltino e questi li possiamo fare 20. Ok, allora intanto mi spieghi il terzo esercizio? Ok, allora il terzo esercizio è uno dei più completi, soprattutto nel mondo del fitness a corpo libero, lo chiamiamo sprawls o mezzo burpees. Quindi partiremo da questa posizione, andiamo giù con i piedi, facciamo un balzo, posizione di plank, ritorniamo in posizione con i piedi patti e facciamo un saltino. E questo mi sembra un po' più faticoso. Proviamolo. Ok. Giù, posizione di plank, si ritorna e saltiamo. Non so se l'ho fatto bene, ho un po' il fiatone, ma voi siete riusciti a fare anche gli esercizi da casa? Bene, allora vi aspettiamo sabato prossimo, sempre con il nostro personal trainer. Donato, un'ultima domanda con risposta rapidissima. I reumatismi e lo sport vengono perché uno fa sport o perché uno non lo fa? Eh, la domanda è assolutamente intrigante. Io posso dire solo che in alcuni tipi di reumatismo, perché il reumatismo è ovviamente definizione molto ampia, la prevenzione passa anche per l'attività sportiva e per l'attività motora. Mi viene in mente l'artrosi, mi viene in mente l'osteoporosi, stile di vita sana, attività motoria riduce il rischio o riduce gli effetti di questa malattia. Quindi più sì che no. Assolutamente più sì che no. Viva lo sport. Grazie al dottor Vassalli, grazie anche a Margherita De Back e noi siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ci vediamo sabato prossimo, sempre qui sulla stessa ora. Non mancatevi, aspettiamo. Ciao. 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 Grazie a tutti.